Il centro storico di Fano è invaso dalle sedi dei candidati, ma la sua non c'è. Luca Serfilippi ha scelto un'altra strada, anzi, la campagna elettorale dell'ex assessore comunale per le imminenti elezioni regionali si svolge proprio sulla strada. Il giovane candidato della Lega ha noleggiato un pulmino e da settimane sta incontrando gli abitanti delle città e dei piccoli borghi della provincia per ascoltare i loro problemi ed eventualmente, in caso di elezione, provare a risolverli. Ho 33 anni e ho una gran voglia di fare, di cambiare il sistema a cui il PD purtroppo ci ha sottoposto in questi ultimi 30 anni. Parto dalle 1015 preferenze dello scorso anno dei cittadini fanesi, ma tanti cittadini mi chiedono cambiamento. Io sto, a differenza di altri, andando tra la gente, quindi casa per casa, azienda per azienda, perché con il pulmino mi piace andare in mezzo alla gente e non il politico che riceve il cittadino. E questa è la mia politica che mi ha pagato fino ad oggi e continuerò a fare anche dopo le elezioni. I punti programmatici di Ser Filippi sono quelli cari a tutto il centro-destra, dalla sanità alle infrastrutture, passando per il lavoro giovanile, il cui rilancio potrebbe rivelarsi un antidoto contro lo spopolamento dei territori. I temi sono tanti, ma il primo è sicuramente quello della sanità, completamente da riscrivere, perché sono stati chiusi ospedali e creati di servizi ai cittadini, agli anziani, a chiunque voglia prenotare anche una semplice visita specialistica, addirittura in alcuni casi non è stata data nemmeno una data. Questo è il primo tema. Il secondo è quello delle infrastrutture. Noi da 30 anni sentiamo parlare di Fano Grosseto, di ferrovia Fano Urbino. Io propongo la ciclabile anche lungo il fiume Metauro, ma di fatti ne abbiamo visti ben pochi. Di fatto ci sarà sicuramente il sottoscritto che si batterà per far sì che al posto delle parole parlino i fatti. E il terzo tema è quello del lavoro. Ci sono tanti giovani che purtroppo sono costretti a fuggire, a scappare dalla nostra terra. Abbiamo una provincia bellissima da riqualificare, da tutelare e da sviluppare, mi viene da dire. Quindi l'obiettivo mio è quello di creare le basi per far sì che i nostri giovani abbiano un lavoro, una casa e un welfare. Questo significa politiche attive e andare incontro alle aziende che vogliono sviluppare qua, politiche per la casa. Ci sono tanti giovani che per trovare una casa devono aspettare i 40 anni. Questo non è possibile, abbiamo delle case popolari che dovremmo dare a canone concordato e agevolato per le giovani coppie. E in terzo e ultimo il welfare, cioè una famiglia giovane per fare figli deve aspettare e spendere tanti soldi. L'obiettivo mio e quello della Lega è quello di dare asilo gratis a tutte le famiglie e a tutti i bambini che per fortuna ancora nascono nel nostro territorio.